Un tema di dibattito, vi faccio un esempio, lo dico ai milanesi che sono qui, perché non si può ristrutturare San Siro? Perché? Faccio una domanda, io tutt'ora a dire di me, ma perché non state la scala del calcio? Che cosa parlate della scala? Avete mai visto uno stadio moderno o cos'è? Quella non è una scala, è una cosa vecchia e obsoleta, ma a parte questo, come facciamo ristrutturare uno stadio dove giocano due squadre, che più in genere sono anche in Champions League o comunque sono una qualche lega e in quello stadio ogni quattro giorni entro 50 mila persone. Come si fa a fare dei lavori di ristrutturazione, dei mega lavori di ristrutturazione in un posto da 50 mila persone ogni quattro giorni? E purtroppo vicino a Milano non c'è uno stadio dove possiamo trasloccare per il periodo necessario i lavori. Lo stadio, non so, Varese ha 15 mila posti, cioè per le nostre squadre. Quindi non possiamo ristrutturare San Siro. Ma intorno a questo c'è un dibattito nella città di Milano che continua anche oggi, che io trovo incredibile, incredibile perché se uno cominciasse a dire non posso ristrutturare San Siro, ma abbiamo bisogno di uno stadio moderno, si interebbe un po' nel mondo del fare. Ecco, questo non è che impedirebbe di corsi altare, le belle arti, tutte queste cose che comunque restano.